Ci sono giornate che partono male e stamattina in Porta Venezia Tommaso Zorzi non si è svegliato bene. Però io che sono un po' la Carrie Bradshaw di Porta Venezia mi basta poco per rimettermi di buon umore ad esempio tipo Prada che ha deciso di mandarmi un cadeau a casa. No vabbè, ciao! Adoro! Beh vabbè. Beh vabbè. Amore sta tagliando l'anguria. Nel frattempo mi è arrivata una nuova macchina del caffè di lavazza per Smeg e io avevo l'an espresso e non sapevo dove cacchio piazzarla perché questa è bellissima la volevo in cucina. Allora ho detto ce l'ho, è geniale. Uno arriva in bagno la mattina, tracchete, si fa il caffè, no? Raga mi è arrivato anche un altro pacco oggi, cioè non si capisce che giornata, oggi è giornata moda, questo è DM Luxury Sicuro. Un completo tuta e maglietta off-white, un completo tuta e maglietta Balenciaga, un completo tuta e maglietta Gucci e pure delle Nike. Scusa. Allora, corsetta quantomeno, in camerino, finita, fatta. Gabriele è giù in macchina, arrivo? Sì. Qualcosa riuscirò a prendermi in chia, sto avendo una giornata di merda, porco c***o, che ti giuro faccio con un ciglio, il tipico giorno che litio con tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.